Due commercianti del Cilento sono finiti sotto inchiesta per frode nell'esercizio del commercio, mentre sei attività del Vallo di Diano sono state multate e obbligate alla chiusura per cinque giorni. E' l'esito dei controlli eseguiti recentemente dalla Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina e dalla Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, nell'ambito degli accertamenti attivati con l'emergenza Covid. Attività investigative che mirano non solo a verificare se vengono rispettati i protocolli sul contenimento della diffusione del contagio, ma anche a tutelare i consumatori. A Vallo della Lucania le fiamme gialle hanno rinvenuto in un negozio di detersivi 150 flaconi di detergente per le mani spacciato per disinfettante. La merce è stata sottoposta a sequestro e il titolare è denunciato all'autorità giudiziaria. Con lui è stato denunciato anche il titolare della società produttrice dell'antisettico Taroccato. Si tratta di un'azienda con assede nell'agronucerino sarnese, dove la Guardia di Finanza ha rinvenuto altri 3.000 flaconi, oltre a 30.000 etichetti adesive recanti a testazioni non veritiere. I due commercianti indagati rischiano ora la reclusione fino a due anni o la multa per oltre 2.000 euro. Nel Vallo di Diano invece i carabinieri del Capitano Acquaviva hanno ordinato a sei aziende la sospensione per cinque giorni dell'attività per il mancato rispetto delle normative per prevenire il rischio da contagio da epidemia da polmonite Covid-19 nei luoghi di lavoro. Secondo quanto accertato dai carabinieri, le sei aziende in questione non avevano, tra le altre cose, proceduto alla periodica sanificazione certificata degli ambienti e dei monitor e alla distribuzione dei DPI. Complessivamente sono state elevate sanzioni per circa 2.500 euro. Le sei imprese in questione sono rispettivamente aziende agricole di lavorazione del ferro, di trasformazione della plastica, ditte di pulizie e addette al commercio di prodotti termoidraulici.